Miei cari amici, sono appena tornato da Capoverde e voglio raccontarvi qualcosa di bello. Come Chiesa a Capoverde l'abbiamo vissuta intensamente, due momenti per me che sono altissimi per la Chiesa, anche se umilissimi, le dimissioni, la consegna da parte di Papa Benedetto della sua responsabilità a tutta la Chiesa, non solo ai Cardinali, ai Vescovi e ai Sacerdoti, ma tutta la Chiesa, tutta l'umanità anche. L'ho sentita così. E poi questa chiamata, questo arrivo di Francesco, di Papa Francesco, che anche noi a Capoverde siamo rimasti stupiti, anche se i messaggi e la televisione non ci ha trasmesso tutto quello che avete ricevuto voi qua. E questo mi ha dato un là interiore, no? Questo Papa Francesco, che l'ho visto un po' sulla sequela di Francesco, ma soprattutto sulla sequela di Gesù lungo le strade. Gesù va nelle strade dove vivono gli uomini e questo uomo di Dio semplice ha fatto questa scelta, a meno l'impressione che ci ha dato, no? Di camminare con gli uomini del nostro tempo. E l'attenzione ai poveri, l'attenzione al sociale mi ha rincuorato moltissimo, perché i progetti che abbiamo in Capoverde sono progetti seri, progetti impegnativi, che non ha visto solo me impegnato, ma ha visto dei tecnici, dei professionisti, ancora oggi. E poi la collaborazione di migliaia, migliaia di amici, benefattori piemontesi, ma anche italiani, perché queste opere crescessero e poi diventassero veramente quello che stanno diventando, una realtà attiva e produttiva di lavoro, ma produttiva anche, io spero, fra non molti anni, di economia per servire ai più poveri. Comincerei dalla vigna, la vigna di Maria Chavez, è una vigna che sta crescendo. Tutti i turisti e anche le persone che chiedono di visitare la vigna, che è la vigna, diciamo, per Fogo, ma è la vigna per Capoverde, quindi anche le autorità politiche, quando vengono all'isola di Fogo, sono desiderose di conoscere direttamente questa realtà. E il problema dell'acqua sussiste sempre, stiamo dialogando continuamente con il governo, con il Ministero dell'Agricoltura, che è responsabile anche dell'acqua, e io spero la pazienza infinita, con pazienza infinita, di, fra qualche tempo, risolvere questo problema dell'acqua, che è importantissimo. La vigna, la vigna sta andando bene, ero ultimamente laggiù, ho delle foto, perché, diciamo, chi ha la telecamera non era presente con me, comunque le foto rivelano già una grande raccolta di uva su tre lotti. Abbiamo raccolto, 15 giorni fa, una trentina di quintali di uva bianca, che è stata già lavorata, adesso già nei grandi contenitori, nei tanchi, per la, diciamo, io non ho termine tecnico, per l'abolitura, quello che è, diciamo, il mosto che deve lavorare, perché il vino è profondamente vivo, questa è la grande scoperta che io ho fatto, è vivo, vivo, vivo. E allora con questa gioia, no, di avervi detto che non è la prima raccolta di uva, ma questa raccolta l'abbiamo fatta, andiamo sempre avanti con molta, molta fiducia. Grazie a tutti.